Beh, in Italia sono tante le cose che potete vedere, abbiamo delle bellissime città, Firenze, Venezia, Varese, abbiamo delle bellissime spiagge dove potete fare dei bagni, abbiamo... Ecco, io vi consiglierei una settimana bianca, eh? Cos'è una settimana bianca? Beh, è una settimana come la vostra, solo che... Beh, comunque abbiamo lo specialista, ve lo mando subito.